Sì, finalmente avrò i poteri che ho sempre desiderato! Sarò il super sindaco più forte del mondo! Super Handinger! No, gattini! Tornate qui! Orazio, il treno che riporta le rarissime tigre bianche nella giugla passerà di qui tra non molto! Guarda, eccole là! Gattini! Gattini! Grandi gattini! Gattini, ci sono degli amichetti per voi! Ah, il mio gattino! Il mio gattino! Il mio gattino! Sindaco Handinger, si fermi! Ora lo prendo con la rete! Devo prendere il gattino! Devo prendere il gattino! Ma cos'è successo? Un burrone! Ah, una tigre! Aiuto! Aiuto! Rete di energia! Super Vortice! Prima io! Prima io! Oh mamma, una tigre volante! Per ogni gatto che viene rapito, noi siamo... Miau! A disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Ecco l'antichissima e misteriosa statua d'oro di lupo! E queste cose sono, François? Ah, quelli sono i guardiani di lupo! I guardiani devono eseguire gli ordini di chiunque tenga in mano la statua d'oro di lupo! Affascinante! È stupendamente scintillante! Ma non è un gioiello! È un frammento del meteorite che mi aveva dato... Sì! Super poteri! Yahoo! Aiuto quelle statue si muovono! Fermi! Sbaglio! O mi avete ubbidito? Ora portatemi quella cassa piena d'oro! Ah! Li sto controllando! Adesso ho una banda di cani scintillanti al mio servizio! Allora, super cuccioli! Attireremo Ladyboard fuori dal museo con la statua più grande e brillante che si sia mai vista! E noi ci riprenderemo la statua d'oro di lupo! Però noi non abbiamo un'enorme statua che brilla! Ce l'avremo! E la vedrete quando voleremo sul deserto con il super jet! Vi spiego il resto del piano! Ma è possibile che sia così difficile trovare una statua gigante piena di gioielli? È elurne! Guardate come brilla! Portate questa statua nel mio covo museo! Presa Ladyboard! Che cosa? Tu non sei una statua? No! Io sono un super cucciolo! E la statua d'oro di lupo non ti appartiene! Merci beaucoup, Poe Patrol! Siete riusciti a salvare la mia preziosa collezione! Non c'è di che! Ogni volta che le statue prendono vita, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Una terribile tormenta sta transitando! Troviamo riparo nella tenda! Oh no! Il lupacchiatto potrebbe perdersi nella neve! Devo aiutarlo! Non avere paura! Andrà tutto bene! Coraggio! Andiamo a cercare riparo! Guarda! Una caverna! Seguimi! Non è confortevole! Perfetto! Aspetteremo che passi la tormenta! Oh oh! Questo non va bene! Oh, non preoccuparti! Troveremo il modo di uscire! La neve si è agghiacciata! È troppo dura per scavare! Ci sono! Rampino! Così va meglio! Forza! È divertente! Perché non vieni anche tu! Se un lavoro devi far Un amico va a chiamar Una canzone intonerai La 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 Ci vorrà un bel po' È la Poo Patrol! Continua a scavare il lupetto! Stiamo per uscire da qui! Ci avete trovati! Del lupetto delizioso! Guarda gli episodi completi di Poo Patrol su Nickelodeon! Volando in bongolfiera Gabbialetta! 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 Eccolo! Il polo nord! Ma senza neve! Ciao, Tracker! Come va? Guarda! Ma che bel paesaggio infernale! È Cicaletta! È Travis! Sì! E crede di essere al polo nord? Arriviamo subito! Robo Cucciolo va nella giungla! No, la Rider! È lassù! Resista, Travis! Vi tireremo giù! Rider! Che cosa ci fate voi qui nel freddo e glaciale polo nord? Chase, lancia la rete in modo che Travis e Cicaletta ci saltino sopra! Ora vi facciamo scendere, Travis! Dobbiamo farlo in fretta, guarda! Questa avventura diventa ogni minuto più avvincente! Incredibile! Chase, lancia la rete, ora! Rete! Ehi! Dov'è il ragno che ha tessuto questa ragnatela? Deve essere gigante! E così do il mio affettuoso addio al polo nord! Purtroppo, devo dire addio anche alla mia fedele compagna, Gabbialetta! Ma ne ho trovata una nuova! Dove andiamo, Criceletta? Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Giocare a nascondino nella giungla è divertentissimo! Un momento, dobbiamo ancora trovare Marshall! Donde sta? Marshall, tana per te! Oh, non sei Marshall! Un pinguino! Non è una cosa che si vede tutti i giorni nella giungla? Ora li abbraccio! Quei pinguini, pinguini, venite fuori! Che cosa ci fa quell'enorme iceberg laggiù? Scommetto che è così che sono arrivati i pinguini! Risarmante deduzione, Paw Patrol! Capitano Turbot! Quei pinguini sono molto lontani dalla loro casa! Sarà meglio chiamare Ryder! Ciao Chase, come va? Ryder, abbiamo trovato tre pinguini nella giungla, ma poi li abbiamo persi! Nessun pinguino è troppo sperduto per un cucciolo coraggioso! Rocky, vai da Capitano Turbot e prendi del pesce e porta la catapulta! Siamo a faro verde, signore! Guardate, Capitano Turbot mi ha dato tutto questo pesce! Ottimo! Ora usa la catapulta per lanciare i pesce e attirare i pinguini verso la spiaggia! Mira, pinguinos! È ora di pranzo! È gentile a riportare i pinguini a casa, Capitano Turbot! Ci sono pesci da mangiare e aria condizionata per stare al fresco sotto coperta finché non arriviamo alla loro fredda casa! Super Cuccioli, siamo pronti alla superazione, signore! Grazie per essere arrivati subito, Cuccioli! A quanto pare c'è un nuovo cattivo in città! Non sappiamo di chi si tratti, ma sappiamo per certo che ha dei superpoteri! Wow! Chiunque sia deve essere superveloce! E superforte! Ed è proprio per questo che avrò bisogno di... Super Rubble! Dovrai usare la tua superforza per raddrizzare quelle rotaie! E Super Rocky, userai i tuoi superattrezzi per rimettere insieme le rotaie il più in fretta che puoi! Bene! Al lavoro, Super Cuccioli! Queste rotaie sono state ridotte proprio male! Niente a cui io non posso rimediare! Eili Dili sulla scena e sui vostri schermi, in diretta per voi dalla ferrovia di Adventure Bay! Oh oh! Il treno è più vicino di quanto pensassi! Rocky, devi piazzare quelle rotaie più in fretta che puoi! Rubble, noi avvisiamo il macchinista! Ricevuto! Fermate il treno! Le rotaie sono rotte! Oh no! Non riuscirò a fermarmi in tempo! Me ne occupo io! Le rotaie sono a posto! Puoi lasciare, Rubble! Grazie, Super Cuccioli! L'avete visto in diretta, gente! I Super Cuccioli hanno salvato il treno! Popatrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, Cuccioli! Il chiosco della frutta del signor Porter è finito in mezzo alla strada! Accidenti! E lui è intrappolato lì dentro! Ma i chioschi si trovano sui marciapiedi? Non dovrebbero stare in mezzo alla strada! Esatto, Rubble! Per questa missione mi servirà... Chase! Userai il tuo megafono e il coni per deviare le auto mentre noi salviamo il signor Porter! Ci pensa Chase, signore! E Rubble! Tu userai la scavatrice per rimettere a posto il chiosco! Rubble come un raggio! Bene, al lavoro! Pou Patrol! Di qua, Ryder! Rasti lì, signor Porter! Chase, eccomi! Wow! Coni del traffico! Wow! Megafono! Per favore, seguite i coni e passate da questa parte! Grazie, Ryder! Non c'è di che, signor Porter! Pronto, Rubble? Pronto! Meglio raccogliere queste mele prima che diventino succo! Succo di mele! Popatroll, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! La nuova cangura dei Wingnut sta saltando per tutta la città e ha lanciato Alex in cima alla ruota panoramica! È davvero un bel salto! E ora Ops è scomparsa! Marshall, dovrai usare la tua scala per tirare giù Alex! E Chase, serviranno le tue abilità investigative per trovare le tracce di Ops! Al lavoro! Pou Patrol! Marshall, sai cosa fare? Chase, mettiti sulle tracce della cangurina! Presto, Marshall! I miei pantaloni stanno... Oh, oh! In arrivo! Stai bene? Sì, grazie, Marshall! Eccola là! Megafono! Ops! Vieni qui, bella! È ora di tornare a casa! Sembra proprio che stia cercando qualcosa! Cicaletta! Ma se Cicaletta è qui, significa che Joy è con il sindaco Goodway alla gola! Sindaco Goodway! Adesso siamo noi nei guai! Sky, Rocky, venite alla gola graziosa! Subito! E se vuoto! Accidenti! Sky, affara lì con il gancio! Presi! Rete! Oh no! Incredibile! Ben fatto, cuccioli! Ah, devo andare ad Adventure Bay! Così Travis il viaggiatore vedrà questo vero finto mostro e mi seguirà fino a Foggy Bottom! Oh! 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 Aiuto! Cioè... Oh! Oh! Guardate! Che strana e misteriosa creatura è mai quella! Hum-squatch! Hum-squatch! Meglio chiamare la Poopatrol! Forza, Marshall! Salviamo quel hum-squatch! Sembra così spaventato! Ecco perché dovrai essere molto gentile quando lo raggiungerai per portarlo giù! Ricevuto, Ryder! Scala! Tieni duro, grosso amico peloso! Ti tiro giù! Era ora che arrivassero quegli sciocchi cuccioli! Cioè... Adesso cerca di farlo voltare e di farlo scendere da lì! Il mio asquatchese è arrugginito! Invece no! Parlo asquatchese! Ryder! L'hansquatch è impigliato in una roccia! Rispondi, Skye! Devi venire a salvare l'hansquatch! Ricevuto, Ryder! Niente paura, signor Hansquatch! Arrivano i rinforzi! Fermi tutti! Quello non è un animale! Cioè, da vario dire... Il sindaco Hundinger! Il mio piano del mostro finto non ha funzionato! Se solo ci fosse un vero mostro a Foggy Bottom! Gattini? Siete stati voi? Comincia a essere buio! Meglio accendere il faro! Chissà cos'altro può fare... Questo sì che è estremo! Chissà se le riesco a illuminare con la luce del faro? Sì! Fuori metto la luce alla massima potenza e sarà abbastanza chiaro per... Il numero acrobatico più entusiasmante di sempre! Adesso quella nave non riuscirà a vedere l'isola! Oh no! La porta è chiusa e ho lasciato le chiavi dentro! Devo chiamare la Paw Patrol! La porta non si vuole aprire! Chase, usa le scarpe a ventosa per arrampicarti ed entrare da quella finestra! Wow! Scarpe a ventosa! Potrei fare dei bei numeri con quelle scarpe! Zuma, come procede? È buio pesto qua giù! Non credo che il capitano riesca a vedermi o a sentirmi! Mantieni la distanza, Zuma! D'accordo, Ryder! Intanto continuo a chiamare il capitano! Sono dentro, Ryder! Ora vengo ad aprire! La lampadina è fulminata! Ne occorre una nuova! Lampadina nuova in arrivo! Dobbiamo fare in fretta! Oppure il mercantile si schianterà! Ryder! La nave ha tirato! Yuhuuu! Ok! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Ehi!